tra Casalurale e Pontiglia e Brixen su Tirol con il primo possesso di panno uno femminile dall'altra parte invece il Brixen su Tirol ha giocato ieri questo taglio per l'ala porta al gol numero due in favore di Brixen e di nuovo il continuo attacco, palla del passesso di palla con Gomez, eccolo qui il pari Sotto di un gol la formazione laziale, crosta, tiro, gol, parità, 13-13 Riparte quindi il babbo per Hilbert tutta sola, un'autostrada per lei ed è il gol del pari Ben via, Ben Porta, il fischio arbitrale, il tiro e la respinta Ben look in, l'eroe di giornata Brixen è la nuova finalista e raggiunge Erice in finale Grazie 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 Grazie